Vogliamo presentarvi tre concetti reali o escogitati per ottenere la cittadinanza italiana come bambino. Lo ius sanguinis è un concetto per ricevere la cittadinanza di uno Stato che esiste in tanti paesi nel mondo. L'espressione ius sanguinis è di origine latina e manifesta il diritto di ricevere la cittadinanza a base del sangue della famiglia. Così lo ius sanguinis indica l'acquisizione della cittadinanza per essere nato da almeno un genitore in possesso della cittadinanza. Per riassumere, un bambino può ottenere la cittadinanza di uno Stato se tutti i genitori hanno la cittadinanza dello Stato o se almeno il padre o la madre ha la cittadinanza dello Stato. Il secondo concetto, lo ius soli, si può descrivere come diritto legato al territorio. Questa legge significa che qualcuno che nasce nel territorio di un certo Stato è automaticamente un cittadino del proprio Stato. Questo concetto è così valido, per esempio, nei Stati Uniti ma in nessuno Stato dell'Unione Europea. Ma lo ius soli, temperato, invece significa che un bambino nato in Italia diventa automaticamente italiano se almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia da almeno cinque anni. Nei altri paesi europei la cittadinanza è regolata diversamente. In Germania, per esempio, uno dei genitori deve risiedere regolarmente nel paese da minimo otto anni. Il terzo concetto è lo ius culture. Lo ius culture è il diritto legato all'istruzione. Figli minorenni che sono nati in Italia da cittadini stranieri potrebbero ottenere la cittadinanza usando questa strada. Anche figli minorenni di cittadini stranieri che sono arrivati in Italia entro i primi dodici anni di età avrebbero questo diritto. Per ottenere la cittadinanza sopra menzionati minorenni sono obbligati a concludere con successo un ciclo formativo di almeno cinque anni in Italia. Questo percorso può essere scolastico o di altra qualificazione o formazione professionale di uguale valore. Attenzione! Vogliamo ricordarvi che solo il primo concetto è adesso legalmente in funzione in Italia. Gli altri sono ancora dibattiti nel discorso attuale. Grazie per guardare il nostro videoclip. Grazie! Grazie!